Buon pomeriggio a tutti, oggi sono qua per parlarvi di una fotografia che è stata recentemente premiata per un contest multimediale che dura fino al 15 ottobre, Curves, che è stato promosso da Landscape Photography Magazine. Il contest ha riguardato una mia fotografia che è stata inclusa, che è stata scattata lo scorso aprile ad Altavilla Monferrato. Ora in questa breve presentazione vi spiegherò sia la parte scientifica sul suolo che i dettagli dal punto di vista fotografico. Inizio col condividere lo schermo e a parlarvi del suolo stesso. Quando noi parliamo del suolo intendiamo la parte più superficiale della crossa terrestre, che comunemente definiamo anche terreno, dove si sviluppano le radici e le piante. Quindi ovviamente è facile dedurre che il suolo rappresenta una delle più importanti risorse per l'uomo ed è studiato da una scienza che si chiama pedologia, che si occupa di definire nella composizione le caratteristiche e la formazione. Andiamo a parlare di una caratteristica distintiva del suolo, che è il colore, che può essere scuro o chiaro. Se è scuro, di solito marrone sul nero è molto ricco in humus, materiale organico, mentre se è chiaro può essere rosso, giallo, grigio, se è rosso può contenere anche degli ossidi di ferro. Questa è una tabella che presentiamo sempre a scuola su come riconoscere dei tipi di suolo. Andiamo a fermarci su quelli che assomigliano di più a quelli di Monferrini, dato che la foto è stata scadata di Monferrato, un rosso un po' più puro, è abbastanza permeabile, però nonostante tutto è piuttosto pesante e compatto, quindi è difficile da lavorare. Contiene piuttosto un suolo di tipo argilloso, perché contiene più del 30% di argilla. L'aspetto interessante dal punto di vista biologico è il profilo di un suolo, cioè tutto l'insieme di questi strati che prendono il nome di orizzonti. Partendo dall'alto abbiamo un orizzonte O, che è più comunemente denominato come lettiera, segue l'orizzonte A, che è ricco di humus come precedente, l'orizzonte B invece è ricco più di parte inorganica, quindi più ricco di particelle minerali. Poi abbiamo i frammenti di roccia madre che compongono l'orizzonte C fino ad arrivare all'orizzonte R, che è la roccia madre stessa. Ora, saltando un po' qua e là, voglio farvi tutta una lezione di scienza completa. Nell'articolo fotografico che avete letto, che vi ho condiviso nello stato Whatsapp e su Facebook, e anche nel mio canale Whatsapp, si parla di tessitura. La tessitura è la parte inorganica del suolo, quindi è costituita prevalentemente da sabbia, limo e argilla. La cosa importante da sapere è che il suolo costituisce un ambiente ricco di vita perché comprende tutti i cinque regni piologici, quindi in esso sono contenuti animali, funghi, piante, protozoi e batteri. Torniamo noi proprio all'aspetto fotografico, quindi vi faccio vedere la foto che è stata premiata e che è questa qui, che è sulla rivista, eccola qua, questa è la foto che ho scattato con un 18105, arrivando verso il tabella non ferrato. Ecco qui c'è l'articolo con la spiegazione più o meno di quello che vi ho detto prima. Se andiamo a vedere da un punto di vista fotografico, diviene importante avere un buon obiettivo. Sembra tanto ravvicinato, in realtà non ho usato il teleobiettivo, ma ho utilizzato un grandangolo, un 18105, che avvicina già bene anche se si è in transito, ad esempio ho provato questa dalla macchina, ed ha dei buoni risultati anche applicando il filtro fotografico, che può applicare anche semplicemente quelli di Instagram o Fai, che accentuano molto bene queste curve, queste curvature. In realtà nel punto di vista fotografico si va anche a parlare di diagonale, però le curve differiscono perché dalla diversa posizione dell'angolo per potenziare, per dare all'effetto poi a tutta la scena completa. Ci sono altre foto simili che vorrei già che ci sono farvi vedere, che sono le seguenti. ve le faccio vedere da qua. Uno è questa, che riguarda una curvatura, questa non l'ho fatto opposta, mi è partita dalla macchina fotografica, oppure questa foto è stata premiata già in precedenza per Intimate Landscape, è stata fatta a Cervinia durante le uscite a Valtournage con il Cai e c'erano queste, è il ghiacciaio praticamente qua, queste bellissime curvature di neve e poi ce n'è un'altra, da farvi vedere che sempre in Valtournage con il Cai è analoga, insomma, sono le scie e curvature degli sci sulla pista dove va il Cai di Vercelli a insegnare i bambini a sciare e anche a fare i suoi corsi di sci che ha cime bianche di Valtournage con lo sfondo della Murail. Quindi anche questa foto precedentemente è sempre la stessa rivista, l'ha premiata. Allora, tornando allo schermo generale, vi volevo ricordare che lunedì sera alle ore 21, lunedì 9 settembre, si tiene una conferenza fotografica sulla disabilità, la conduttrice sarà la caramica Angelica Malinverni, come tutti avete imparato a conoscere, la mamma di Caterina che racconterà della sua esperienza proprio in Valtournage sul turismo sostenibile e di come sia facile, tra virgolette, ma comunque come alcuni comuni possano agevolare le vacanze anche per le persone meno fortunate di cui. Quindi racconterà avendo nel cuore maenne la sua esperienza ad Antaei Sant'Andrea. Io poi proseguirò, farò una proiezione di foto proprio di Antaei e illustrerò a Grandinei il libro sulla Valtournage di Te ha detto il mio cuore, che è stato il primo libro che ho pubblicato. In accorta fondi due eventi, allora uno è già in corso, è solo online, non faccio presentazione perché si tratta di un album fotografico che riguarda il Grand Tour del Friuli con il logo del gruppo Stat e che racconta le memorie di viaggio proprio dal 13 al 17 agosto passati e c'è tutto un album descrittivo sul Friuli, sui posti che abbiamo visitato. Al fine settembre ci sarà anche una raccolta fondi in presenza e a distanza per la LILT di Vercelli, lega italiana lotta tumori che faremo nella sede LILT di Corso Abbiate, se tutto va bene il 27 settembre alle ore 18 con una proiezione alla presentazione del libro La dimora eterna di Pierre dedicata al giardino botanico Cianusia che si trova al piccolo San Bernardo sopra la TUIL. Chi vuole rimanere in contatto comunque si può iscrivere al canale Whatsapp, basta contattarmi privatamente, si chiama i fotolibri di Stefania Grasso ma ci sono lezioni scientifiche come queste e oppure può anche chiedere di essere iscritto alla lista broadcast di Whatsapp in modo da ricevere sempre gli aggiornamenti e le fotografie. Vi auguro una buona domenica, ringrazio per l'attenzione e un abbraccio a tutti. Grazie. Grazie.